cari amici approfitto di questo altro momento di pausa per fare già il video sulle due sfide di questa serie di serie c girone a innanzitutto ci sarà il recupero della gara che non si è disputata ieri tra albino leff e gianna erminio alle ore 20 e 45 e poi la sfida con diretta in esclusiva copertura tv su rai sport canale 57 rai sport più hd canale 58 del digitale terrestre tra alessandra e novara facciamo quindi un escurso sulla classifica del girone a del campionato di serie c in testa il lecco con 10 punti 3 vinte un pareggio seguono renate grosseto a 9 carrarese 8 provercelli 7 novara 6 juventus center 23 6 como 6 pontedera 6 propatria 6 pergolettese 5 alessandra 4 piacenza 4 piacenza 4 processo 4 pistoiese 3 livorno 2 lucchese 1 albia 1 albinol f1 in fanalino di coda 0 vinte 3 sconfitte gian erminio a 0 punti bene un saluto a voi tutti diciamo con eventuali novità potrebbero arrivare altri video alla prossima ciao